Ecco siamo in solle, siamo cercando sul nostro nome padre Luca Cubelli del Vesita Banditare dopo che lei ha appunto accusato, non so se è vero, di una morte di un padre guardiano è solo accusato però sospettato ma non è stato mai condannato e comunque se il Vesita Banditare ha inocchio a Bizzi, a questa zona di Bizzi, a questa zona del solle noi siamo in solle, siamo proprio sull'occhio in umbe, padre Luca Cubelli che è nascritto in passata è nascritto il suo 19 di marzo è sul 1748 e poi il morto in Oristano è sul 1828 è nascritto da una famiglia insomma umile, non tanto benestante c'è una delle persone in famiglia e la mamma è la Maddalena Geron e il suo babbo Gianluca Gianluca Cubelli, Luca è un po' più sul nome, nonostante non si era chiamato Gianluca ma si è chiamato Gianluca Cubelli, Gianluca Cubelli ha fatto il suo passaggio ma già da un anno che inizia il suo passaggio ha cominciato a dare segni, insomma, dei canti bravi su poetari e viene da una grande grande parte di leggere e da conoscenza che già da un minore e quindi si è chiamato da un minore e da una grande parte di leggere e da una grande parte di leggere e da un minore che si è iniziato a studiare a scuola di Sassari a sei chi ha dimanato di essere e è andato a seminare e a diventare padre e a 22 anni su 1771 e su 1773 venite ordinato Pritero, insomma, dal suo Vescovo di Sassari Giuseppe Maria Incisa e picca il suo nome del padre Joanne Pedro. Poi è tutto però che è conosciuto come padre Luca. Sono professori di grammatica latina, sei scopi di Sassari, in Tempio, Pausania, Auristano, Isoli e Cagliari. In quello è successo il suo vato che prima è nato che ha capito questa accusa di avere morto un padre guardiano del vestito a bannettare la propria in ocche tra il territorio di Vizi e di Patala, in ocche in sole e non come andiamo a vedere si basta accorre la cosa che non aumenta la presenza sua. Ecco, siamo su, in sole, in ocche queste nuove vizie, la chiamata che è chiamata che è accompagnata o dentro di uno truzzo di uno, di uno cerchio, di uno cerchio, o chi li ha chiamata praticamente di domenica e di cappella che non ha raggiunto la misa. Come non capisco nulla però una parte di questa città che è toccata dentro questa tuffa ma anche come noi non riescemmo a annichellare, anche tirare, insomma, che non abbiamo avuto tutta l'attrezzatura ma se vi potete orrare e mi hanno assicurato che praticamente su uno è ballassato, o amus annare a questa straccia, a questa urmina che comunque occupa iata questo tretto, chiaramente su uno buito non è spruzzo, però siamo proprio i suoi occhi, non beh, padre Luca Cubeddu cramato in bici, padre Solle e sta iata, ed è in ocche poi siamo uviata a soldi verso il loco, se non bannagliata. Sì, ha fatto vina questa untana, come andammo già l'idele, questa untana del padre Luca Cubeddu che è in occhi, poi tra i neri, atto da una ricerca che hanno fatto da Sabba, ma dopo, ecco, la ricerca di Sabba, ma vedo in ocche, già vena però, già untana proprio del padre Luca Cubeddu che questi scavano prima non bitti, questo l'hanno scavato dopo, e quindi hanno cercato Sabba. Però in ocche Bergalo, già untana che si ha fatto questo, che è tipo a Puzzeddu, a Puzzu, eccola, come in ocche, abbiamo fatto a Banna, un pacco già, già seppe, però, già untana si regalo, come diretti il vedendo, è una specie di un raggedo, atto, o, si direte, da persone, insomma, che va a travagliato, e bambina, c'è un'architrave, che comunque questa architrave è da, in questo è un pacco rutta, lasciamo il vedendo in ocche posta di punta, che ha anche rotto terra e pretas aiuto. Ecco, la potremo il vedendo in ocche, che è questa bovetta, una bovetta che l'ha fatto che roba le pretas, ecco, in cui, come se si vedendo, è questa bovetta che ha chiesto di un'architrave, anche in che rutta. E in ocche, è tutto murato, e questo è tutto murato in ocche, e in che sa bene la piccata, e in ocche sa la, da manca la piccata, e quindi in questo Puzzeddu si prende ad abbi a chiesto di pergola. Come questa è un pacco sicca, in cui hanno fatto le ricerche in ocche, e quindi, finca col lito Zaba, finca col lito. Quindi, te ne andrà a stuere, ecco, da questa città che siamo un pacchene. In ocche, si deve creare un po' di Zaba, e se, ha sicurato di averci stati occhi, non vedeva, perché gli occhi, non vedeva che gli occhi, non vedeva che gli occhi, dovrebbe essere stati in questa zona degli occhi. e non ci sarà giù, perché gli occhi, non ci sono stati in questa zona, ma non ci sono stati in questa zona. E' probabilmente, non ci sono stati in questa zona, ma non ci sono stati in questa zona. Però, io ho chiesto di essere comodo, io Zaba a curso, in modo che... Ma la finotta, tu ne sei finotta bene. Eh, che non ci servisci a... che non ci servisci a Zaba a curso, che non è, che poi andare a buscare roba, non ci sono stati in questa zona. e poi mi raccontano pure, che questo è stato un punto strategico, muovendo Dainocchi. Dainocchi è arrivata, si è arrivata a Gurduso, si è arrivata a Sartolo di Vizio. E' appassata, chi sei? E' appassata teso. E' appassata. E' appassata. E' appassata. E' appassata. che non ci si mette a largo in quello Dainocchi. E' appassata che... 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 si è arrivata a Cudoro, a Oronizza. E via, e pica su cammini, che ha tirato la mamma, che ha giusto. E che... mi ha contato qualcuno, che uno conto insomma, che una via stai andato a uscire che non è gabba, Che non ci si è abbannitante. E' appassata che ha detto che questa franchigia possa essere più a Michele, se no può... un po' sul bannito su. E' appassata che si è anche sposti nì, eh. E... Io non so che porti qui su. Io no. Tu pari sei dove io no. No, no, ma anche te, come non si nota? Ti ho chiesto i nocchi su al dico, chiesti. Mi tenne, non riesco a mettere. Mi. Si nota. Tu vuoi che arrivai a Cudoro, che arrivai a Cudoro. E' appassata. E' appassata a fare che un'abitazione ed un'altra. No, ma questo è... Questo è dentro il suno. Questo è dentro il suno. Allora, uno... Ma comunque ti nocchi. Mi poti sbagliare... Mi poti sbagliare del carchimetro, Manneddo, mi ha indicato proprio di nocchi. Eh, eh. E' appassata io. E' appassata il carchimetro. Ma questo è Mannedotobi. L'ha connotto su questo tronco? Giù il tronco va connotto, Manneddo. Giù il tronco va connotto? Eh, giù il tronco va connotto. Giù il tronco va connotto. Giù il tronco? Giù il tronco? Giù il tronco? Giù il tronco va connotto? Eh. Quando potete essere Mannedotobi? Eh, Mannedotobi, se mi ha detto Mannedotobi. Se non ho connotto... ...e tu, il tronco va con... ...e tu, il tronco va con... ...e tu, il tronco va con 6 persone da abbracciare. Sì, tranquillamente, se hai bucchi dentro 2 persone sforcate. Quindi, non c'è... No, che non c'è più... ...non c'è più di 2 persone, non c'è, se lo dici poi. E io, giù il tronco. Eh. Non c'è più di casa, non c'è più di casa. No. No, no, i nocchi. I nocchi. E' a cursa lontana. Sì, i nocchi. In questo ora i nocchi. E' in questo ora, i nocchi. Ma magari... ...i hanno fatto qualche cosa, che hanno fatto il prezzo. Eh, ci hanno fatto qualche occhile, i nocchi. E' in questo ora. sui lontani. Ecco quindi, se vedi... Se stiamo vedi... E' finito i nocchi. Ci sono atto. ..che stanno... hanno che ne hanno mannigli. Noi, voi. Allora, questa... ...lla spianta, sono sallevata. Questa spianta i nocchi, l'hanno secata. Rist entrance a bucchi, non che ne ho. No. No, immetto, stanno tracciato, sul focorro. E' vescita tutto questo. Tutto il freno, e quindi torniamo a ripetere le servizioni sull'occhio non bebiti e ti ti chiedono che ercoiti, ti chiedono che ercoiti, che erano addirittura due persone ma se non vi stai a due che sicuramente ti chiedono come questa mano dato che poi non conosco uno che può abbracciare la becchieria tra queste persone e può intornare insomma quindi si presume davvero che si è costa esattamente sull'occhio non è padre Luca Cuperio che si è ispirato a Strerrosa a Clio e insomma è tutta la poesia al bello a chi ha descritto torniamo a fare una visita a Sauntana, ecco chiaramente questo cuile che si è fatto insomma la Ghirantoglio che si è fatto non potete stare che ne abbia questa babila è un po' più a curso tanto è che si è fatto Sauntana e si è tutto come ha sapato una vena insomma intornata da preta e ha fatto un'untana a Puzzidio come si è acchiatando e su Puzzidio si prendeva come un buon assietto di ingannare dai che questa abba che questo è nata la Chirca però è sempre a Sauntana e Sabba che invece come questi scavati dai cui hanno cominciato a scavare questi scavatore e abbiamo fatto questa Chirca di Abba questa è veramente bella dal suo punto di vista dell'architetto unico costruttivo ecco vedete questa spretta, questa sono in ocche, toccata questa di lì scartare e insomma devi ponere una targa ecco, mettiamo fuori una targa in ocche e poi aumentare questa bella lontana che si è scavata e fatta insomma ecco, l'ha fatta proprio da tipo un Uraghidio con questa parte da preta per appunto proteggere la sabba dai ostasi e così via e per poter insomma rompere e s'indeservire questa sabba ecco se vi chiedete naturalmente tornato a capire che cosa puoi pulire che in ocche bisogna tutta spretta, ecco questo chiuso a vedere che in ocche sono spretta anche in tutta una Sauntana ecco Sauntana è scusta, ecco il che devo usare il video è scanto possibile ma purtroppo non arrivavamo il vattuto pinnacchio e quindi non riescemmo a pulire bene ecco tutto questo è stato in soli e non è appunto il padre Luca che vedo il vestito a bannettare che hanno l'accusazione di aver morto uno padre guardiano che lo mantiene si è attaccato in una cella che non c'erano in questo convento che si è riportato e tanto narano che l'ha morto che in un Corfo e Crais e altro spero narano che sia a causa della morte non si è stata accusa ma che bene tapito una questione per la gara e competizione amorosa tra questo padre guardiano morto e il padre Luca Cubello bene termino questo filmato e vediamo anche che tornare può pulire questa lontana mentre dovete vedere Bistitv